E' Zora che ora controlla chiunque si avvicini a Michela, rimasta da sola con la figlioletta Valentina di venti mesi da quando l'acqua maledetta degli Erz ha riportato via il suo Fabrizio. Sola, ma con tutta una comunità accanto, con quella discrezione che solo la nostra gente ha verso chi affronta un dolore così grande. Così anche e soprattutto oggi, a un mese da quel 2 agosto, quando ha refronto lo Fabrizio Bortolin con altri tre trevigeni e scomparso nella tragedia del Molinetto della Croda, il sindaco del paese di Santa Lucia è andato a trovare Michela e la sua bambina. E' la forza di andare avanti a spingere questa giovane donna con il sostegno di tutti. Il 15 di settembre ricomincio a lavorare dove lavorava mio marito, 4 ore. Devo andare avanti, soprattutto per la piccolina, insomma. Però è dura, insomma. Soprattutto la sera, perché non ho più nessuno con cui parlare, però cercherò di andare avanti. La voce inclinata scopre un dolore immenso. Io ricordo tutto, proprio. Come fosse oggi. Si pensa sempre che succeda agli altri, invece è toccato a me. Spera che, insomma, da questa tragedia arrivi qualcosa, qualcuno che la sostenga anche economicamente. Io spero di sì, perché sono morti in quattro, insomma. L'abbraccio di una comunità, ma anche di tanta gente comune. Mi è arrivata tanta solidarietà. Mi dicono sempre di farmi il coraggio, insomma, che lui ci protegge, insomma. Ora il pensiero è per Valentina, per il suo futuro. E sua figlia come racconterà questa vicenda? Io gli ho già detto che papà non c'è più. Sì, gli ho spiegato tutto. Però è piccola, non è che... E allora ogni tanto guarda Gesù, gli manda un bacio e gli dice papà, è lassù.